Benvenuti e bentornati amici FNAUTI. Questo è un video un po' difficile perché in realtà c'avevo in testa 7-8 modi diversi per iniziarlo e quindi ero un po' indeciso. Perché è vero che parlo sempre di street photography, ma oggi voglio parlare esattamente del perché facciamo street photography. Questo per me è un video particolarmente importante perché coincide quasi con la fine del nostro primo festival della fotografia di strada, ma coincide anche con i nostri primi mille iscritti a questo canale, ma soprattutto coincide con quasi un anno dalla nascita di F4. E quindi è inutile che io mi nasconda provando a fare il figo, perché c'è il coccolone. Lo sapete, sono un tipo romantico. Ogni anno che passa non siamo più quelli dell'anno prima e infatti nell'ultimo anno io personalmente sono cambiato tantissimo. Oltre ad essere diventato più vecchio insieme al mio cane, questo è stato anche un anno lungo, difficile, complicato e problematico, a tratti addirittura ostico. Ho cambiato città, mi sono imbattuto nel quattordicesimo trasloco in sei anni, ho abbandonato quella che i mental coach chiamano zona di comfort. Ho superato due interventi chirurgici, di cui nell'ultimo ho quasi avuto la peggio. Ma alla fine ho capito che non ho più bisogno del room che vizia, ma soltanto dell'acqua che serve. E ho capito anche che ti puoi comprare tutto nella vita, ma le uniche cose che davvero restano e che contano sono le esperienze e quelle nessuno può più ignorartele. E quindi proprio oggi voglio parlare di tutto quello che è successo in questo anno e del perché andiamo avanti con F4. E sono sicuro che anche per voi questa cosa potrebbe essere interessante perché alla fine, come ogni youtuber che si rispetti, vi lascio quattro punti per non mollare questo nostro meraviglioso mondo della street photography, per affrontarlo al meglio e perché no anche migliorarci a ogni uscita. Quindi ti chiedo dieci minuti, metti adesso in pausa, magari stappati una birra e metti like. Iscriviti se non l'hai ancora fatto e scopriremo insieme qualcosina che solitamente non ti dicono, forse perché non fa parte del loro pensiero fotografico. Qualche giorno fa, in una live in cui rispondevo a qualche commento sotto i miei video, per dare valore alle nostre fotografie ho fatto cenno a una teoria utilizzata dalle più grandi aziende del mondo, come per esempio la Apple. La teoria è stata definita da un tizio di nome Simon Sinek con il nome di Golden Circle, cioè il cerchio d'oro. Questa teoria non fa altro che dare una spiegazione a quello che vi ripeto fin dal primo giorno e che mi ha mosso sempre in ogni cosa che ho fatto e che mi muove anche nella street photography, ma che soprattutto mi muove proprio in questa community. E cioè esattamente parliamo del cosa, del come e del perché. Queste sono le domande che dobbiamo porci sempre quando iniziamo un'attività oppure un progetto e banalmente sono le domande che dobbiamo porci prima di scattare una fotografia. Tutti quanti ci poniamo in realtà queste domande, ma normalmente lo facciamo nel modo sbagliato, perché iniziamo dall'esterno del cerchio d'oro per arrivare al perché. Ci chiediamo infatti prima che cosa facciamo, per esempio la street photography, poi ci chiediamo come facciamo la street, per esempio per le strade, in bianco e nero, oppure a colori, oppure con una tecnica particolare, soltanto alla fine, se ci rimane del tempo. Ci chiediamo perché scattiamo una fotografia. Ma pur rimanendo legittime queste domande, anche le risposte che ci diamo, imbarba tutto quanto quello che ci sentiamo dire dal mondo lì fuori. C'è un errore che sta alla base, perché tutto quanto cambia infatti se proviamo a interrogarci partendo dal centro del cerchio d'oro per arrivare all'esterno. E questa non è psicologia, questa è biologia, perché il centro di questo cerchio d'oro, quello che corrisponde alle domande del perché e del come, sono esattamente le sezioni del nostro cervello che formano il sistema limbico, cioè quello responsabile dei nostri sentimenti, delle emozioni, del comportamento e delle nostre decisioni. Mentre invece la domanda cosa corrisponde alla neocorteccia, che è responsabile invece dei pensieri razionali, dei pensieri analitici e del nostro linguaggio. Quindi capite bene che cambia completamente la prospettiva e il valore delle nostre risposte e di conseguenza cambia anche il valore di quello che facciamo e delle nostre fotografie. Perché se iniziamo a rispondere a qualcosa stiamo fotografando, saremo di sicuro capaci di spiegare tantissimo. Dal genere trattato, per esempio, alla tecnica, alle luci, alle composizioni, ma difficilmente scopriremo il vero motivo del perché ci alziamo la mattina, oppure del perché fotografiamo anche quando avremmo qualcosa di più importante da fare, o del perché una foto è più importante delle altre. Il contenuto, come lo chiama qualcuno. E badate anche però che il perché non è esporre in questa oppure in quella mostra, pubblicare su questa oppure su quella piattaforma, vincere questo oppure quel concorso, ricevere dieci, cento mille like. Questo è sempre e solo il risultato. Il perché è lo scopo, è il motivo, è quello in cui credete, è quello per cui vi devono credere gli altri. Il perché è il motivo per cui si racconta una storia. Per intenderci, è l'unico motivo per cui una foto, un senza petto, è o no eticamente corretta. E adesso, dopo avervi raccontato, avervi detto perché scatto e perché faccio street photography, è giusto che vi dica anche perché questa community è diversa dalle altre, perché questo canale è diverso dagli altri. Perché magari vi sicuro dico qualche parolaccia di troppo, oppure perché magari sono anche urticante e perché utilizzo qualche analogia che nei migliori salotti non sta proprio bene. E infatti stasera voglio parlarvi di una cosa che sono sicuro non avete preso in considerazione dopo tanto studio sui grandi fotografi del passato, sulla tecnica e sulla composizione. Perché, e anche questo me l'avete sentito dire più volte, il nostro cervello è pigro. Vuol dire che non ha voglia di fare ragionamenti contorti oppure stressarsi per problemi che in realtà ci hanno già risolto gli altri. E per esempio tutti quanti sono convinto che conoscete un tizio di nome Skinner. Sì, proprio quello degli esperimenti sui topi. Dagli anni 40 Skinner ha fatto centinaia di esperimenti su topi e su piccioni rinchiudendoli delle gabbie, le gabbie di Skinner appunto. E in questi esperimenti Skinner aveva creato delle gabbie in cui c'era una leva che quando i topi la premevano cadeva il cibo. E da qui si è capito anche che un animale che non è propriamente in cima alla catena alimentare era capace anche di rispondere a impulsi primordiali per conservare la sua specie. Quello che si è provato dopo anni di esperimenti in queste gabbie è che quando i topi premevano la leva tutto quanto funzionava. Premo la leva, mangio, campo cent'anni. E quindi hanno provato il cosiddetto condizionamento operante. Più premo la leva più cade il cibo. E però io qui mi chiedo, siamo veramente sicuri che non è quello che stiamo facendo noi nella street photography sui social? Cioè siamo veramente sicuri che il nostro bel feed di Instagram non sia l'ennesima gabbia di Skinner, bella ghindata però da follower e tanti like. Dove la leva sono i consigli su quali fotocamere comprare, su quali obiettivi utilizzare, quali tecniche, quale composizione, se utilizzare pattern oppure simmetrie perché la nostra foto sia migliore rispetto alla foto di qualcun altro. Ci regalano i trucchi definitivi per vincere per esempio questo oppure quel contest. E questa sarà anche una riflessione nuda, cruda, cattiva. Ma a pensarci bene mi sento un po' un topolino alla ricerca dalla sua dote di cibo per conservare la sua presenza sulle piattaforme social. Io ve l'ho già detto, pillola rosso, pillola blu. È una scelta che è assolutamente personale e che mai mi sognerei di biasimare. Solo se è consapevole però. Perché, diciamocelo, siamo già tutti quanti, e me compreso, dei topi in una gabbia che chiamiamo casa, in una gabbia ben più grande che chiamiamo città e che arrediamo con ogni tipo di leva possibile per non pensarci. Dalla televisione, al cellulare, dall'aperitivo con gli amici, fino addirittura ai festeggiamenti per la festa del Natale. The Truman Show ce l'aveva sbattuto in faccia con una drammaticità disarmante. E visto però che non ci è bastato, ce l'hanno anche ribadito con The Social Dilemma qualche anno fa. Non sarò di sicuro io e neppure questo canale a sistemare le cose, però almeno voglio provare a salvare una passione che può davvero farci evadere da tutta quanta questa merda. Proviamo perciò a restare liberi, almeno in questo, in quella che è la nostra passione. Questa è l'arte, questa è l'autorialità, questo è il contenuto di una fotografia, non quello che ci vogliono spacciare a tutti i costi per stile. Rompiamola sta gabbia e scopriamo quello che abbiamo dentro e magari anche quello che c'è là fuori, senza vincoli imposti oppure scorciatoie per ricevere questo oppure quel consenso. E adesso ritorniamo un po' più sereni e come promesso vi do i quattro consigli per provarci almeno a rompere ste gabbie. Uno, evitiamo la sovranalisi. Sì, perché l'analisi ci sta, ma come in tutte quante le cose l'eccesso fa male, perché ci sono troppe variabili in gioco quando facciamo una fotografia di strada. Per dirla come Sara Munari, la street photography è una partita poker con la strada e perciò se eccediamo nell'analisi mettiamo dei paletti e non consideriamo il fatto che ogni giorno quando ci svegliamo la vita è fatta di caos e se restiamo liberi invece accettiamo il caos, questo potremmo addirittura sfruttarlo anche a nostro vantaggio, nelle nostre fotografie. Due, evitiamo adesso l'appagamento. Cioè una volta che per esempio abbiamo fatto, abbiamo realizzato una bella fotografia, consideriamo come fosse soltanto zero sul nostro percorso. Il nostro cervello non distingue esattamente tra presente, passato e futuro, perciò se restiamo appagati da quello che abbiamo appena realizzato, tenderemo a ripetere sempre quello che abbiamo appena fatto, perdendoci perciò tutto quanto il resto del viaggio. È una sorta di feedback loop che ci porta a fare i compitini in una nuova situazione dove le variabili non esistono, dove so per esempio che quella fotografia funziona, allora la faccio ed ho un appagamento, mentre invece sarebbe meglio essere più elastici e fare in modo che man mano che scattiamo le fotografie continuiamo a domandarci se vanno bene oppure no. È in base per esempio alle circostanze esterne e al contesto e quindi continuiamo a cambiare. Quindi prima scatta, poi prendi la mira per correggere il tiro. Soltanto così riusciremo a uscire dalla nostra zona di comfort e scoprire quello che ancora non conosciamo. Tre, evitiamo il feedback degli amici che aspettano la stessa moneta. Mi riferisco proprio alla fiamma, a great shot e al battito di mani. Fanno piacere sicuramente, ma non consideriamolo come il vero metro di giudizio del nostro lavoro. Quattro e concludo. Partite dal chiedervi il perché e non vi servirà più nessuna conferma da parte degli altri. Ciao e alla prossima settimana. Ciao. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.